In questo video leggeremo una parte di quel lavoro fondamentale del professor Renato Caccioppoli, misura integrazione sugli insiemi dimensionalmente orientati, del 1952. L'insieme L uguale I per C è un insieme linearmente orientato, individuato non dal solo sostegno norma di L, ma da questo e dal dominio superficiale T. L'opposto, meno L, se ne ottiene cambiando T nel complementare C corsivo per T su F. Se F1 di L, F2 di L, F3 di L sono le funzioni FI relativi agli assi di variazioni totali, L'1L, L'2L, L'3L e FI maiuscolo è il vettore FI con 1, FI con 2 e FI con 3, la variazione totale di FI maiuscolo, L'L uguale L'IC uguale integrale estremo inferiore I, valore assoluto di FI maiuscolo, uguale integrale estremo inferiore I, radici quadrati, FI 1 al quadrato più FI 2 al quadrato più FI 3 al quadrato, uguale integrale estremo inferiore I, radici quadrati, D lambda 1 al quadrato, D lambda 2 al quadrato, D lambda 3 al quadrato. Dalla lunghezza o misura uno dimensionale di L, le derivate, D FI 1 fratto DL uguale alfa, D FI 2 fratto D lambda uguale beta, D FI 2 fratto D lambda uguale gamma, quindi D FI 1 fratto D lambda uguale alfa, D FI 2 fratto D lambda uguale beta, D FI 3 fratto D lambda uguale gamma, sono i coseni direttori dell'asse tangente tau definito quasi ovunque su C, cioè a prescindere da un insieme di lunghezza nulla. Mediante somme di insiemi L del tipo IC si definiscono i più generali insiemi linearmente orientati e si individua la più generale classe L degli insiemi di lunghezza finita. Va anche luogo, sempre in analogia con le considerazioni fatte al numero 10, a considerare somme assolute definite dalle successioni FI con I, I, L. delle funzioni FI con 1, FI con 2 e FI con 3 relative agli insiemi L di N. Al risultato del numero 14 corrisponde quello dell'assoluta continuità di lambda I con L rispetto a mu con I di L, al variare di L fondato L con 0, mu con 1, mu con 2, mu con 3, essendo le misure delle proiezioni di norma di L sugli assi. Quindi è di lunghezza nulla un insieme L il cui sostegno abbia proiezioni di misura nulla. A questo punto possiamo ritenere acquisite le nozioni di integrali estesi ad insiemi linearmente o superficialmente orientati, come generalizzazioni degli ordinali integrali pulvidini o di superficie. Integrale estremo in fiore S, F, X, Y, Z, D, D, Sigma. Integrale estremo in fiore L, F, X, Y, Z, D, Lambda. Integrale di formi differenziali si definiranno ponendo integrale estremo in fiore di S, apri quadro, A, X, Y, Z, D, Y, D, Z, più B, X, Y, Z, D, Z, D, X, più C, X, Y, Z, D, X, D, Y, più da quadro, uguale. y z d x, più b x x z d x, più c x x z d z, chiuso a 4 uguale, integrale esterno inferiore a l, a b quadro, a d phi 1, più b d phi 2, più c d phi 3, uguale, integrale esterno inferiore a l, a cos tau x, più b cos tau y, più c cos tau z dell'amera, indicando nella 13 v l'asse normale, nella 14 tau l'asse tangente. Una funzione f x y z si dirà superficialmente sommabile o 2 sommabile se il primo integrale 12 esiste finito per ogni insieme di s, linearmente sommabile o 1 sommabile, se è finito per ogni insieme di l il secondo integrale 12. L'esistenza dell'integrale 13 implica poi, soltanto per i coefficienti a b c della forma integrante, la sommabilità rispetto ai piani, giaciture, y z, z x, x y rispettivamente, e analogamente dai coefficienti a b c dell'integrale in 14 si richiede la sommabilità rispetto agli assi, direzioni, x, y e z. Si vede facilmente che il primo integrale 12, o ciò che è lo stesso integrale estremo inferiore s, valore assoluto f di sigma, è una funzione additiva di s assolutamente continua rispetto a sigma, o come diremo sigma assolutamente continua. In vero, ossia, epsilon n è una successione decrescente infinitesima di numeri positivi. Se l'integrale non fosse sigma assolutamente continuo, esisterebbe un numero eta maggiore di zero, ed una successione s grande con n, tali che, sigma s grande con n minore di epsilon con n, integrale estremo inferiore s di n, valore assoluto di f di sigma maggiore di eta. Ed è immediato che sostituendo eta mezzi a eta, possiamo supporre che il valore assoluto di f maggiore di eta fratto 2 epsilon di n su sn. Poniamo s1 prima uguale a s1 meno norma s2 per s1. È chiaro che fissato s1 risultano arbitrariamente prossimi, purché epsilon 2 sia abbastanza piccolo. integrale estesi a s1 primo e a s1 primo per la sommabilità stessa di f su s1. Analogamente posto s2 primo uguale s1 primo più s2 meno norma di s3 che moltiplica s1 primo più s2 risultano arbitrariamente prossimi per epsilon 3 sufficientemente piccolo, integrale estesi a s1 primo più s2. ed s2 primo. Si considera poi s3 primo uguale a s2 primo più s3 meno norma s4 che moltiplica s2 primo più s3, eccetera. Vedete così come sostituendo a epsilon di n una successione estratta abbastanza rapidamente. Una successione estratta abbastanza rapidamente decrescente si possa costruire una successione s1 primo con n tale che integrale valore assoluto di f di sigma superi n eta, n eta mezzi su s' di n. Sull'insieme limite s' uguale, sommatoria da n uguale a 1 infinito, s di n meno sommatoria da p uguale a n più 1 infinito, norma s di p s di n. La funzione f non sarà sommabile, pur appartenendo a s primo a s. Analogamente il secondo integrale, 12, è assolutamente continuo rispetto a lambda, ossia lambda assolutamente continuo. I termini integrali 13 e 14 sono poi rispettivamente sigma i e lambda i assolutamente continui. Non sembra facile una caratterizzazione semplice e completamente generale delle funzioni superficialmente o linearmente sommabili. Simili funzioni non vanno peraltro univocamente definite, in quanto ognuna di esse è equivalente a infinite integrazione ad infinite altre. Propriamente nel caso della sommabilità superficiale, due funzioni sono equivalenti quando differiscono soltanto sopra un insieme E che stacchi su ogni S una porzione di aria nulla. E analogamente, per due funzioni linealmente sommabili equivalenti, l'insieme E stacca una porzione di lunghezza nulla su ogni L. Un insieme spaziale E, dato della prima o della seconda di queste proprietà, ha ovviamente misura spaziale nulla e proporremo di chiamarlo di misura superficiale interna nulla nel primo caso, di misura lineare interna nulla nel secondo. Tralasciando qui di approfondire l'argomento, osserviamo che sono sommabili linearmente e superficialmente tutte le funzioni limitate di barri. La semplice misurabilità o quasi continuità spaziale non sarebbe ovviamente sufficiente. Sono però sufficienti, per quando non necessari, certi tipi di quasi continuità, recentemente considerati da vari autori e chiamati regolati. Una funzione limitata, f, x, y, z, risulta continuo quando si prescinda dai suoi valori su certi insiemi aperti a A. Se A si può scegliere in modo che le sue proiezioni o sui piani o sugli assi coordinati abbiano misura piccola a piacere. F sarà sommabile superficialmente nel primo e linearmente nel secondo caso. Tanto discende immediatamente dal risultato del numero 15 e dall'analogo del numero 17. Nell'aturite l'integrazione delle forme differenziali, l'interesse si concentra peraltro su funzioni cui integrali godono di probabilità di continuità analoghe a quelle delle funzioni fi. Poniamo s uguale i con f, uid uguale u con s uguale integrale estremo inferiore a s, f, x, y, z, a del fi, fi essendo definita relativamente ad un piano pi greco. Se sussiste la relazione di limite, analoga alla 3, uid uguale limite per n che tende all'infinito, asterisco uid con n sotto le stesse condizioni che assicurano la validità della 3, cioè la relazione 4 e la condizione delle variazioni v con n qui limitate, diremo che f, x, y, z è regolarmente due integrabile, precisando rispetto a pi greco quando la giocidura non si arbitra. Analogamente posto l uguale uic, ui t uguale ul uguale integrale estremo inferiore a l, f, x, y, z, a del fi, fi essendo relativa ad un'asse r, definiremo la un'integrabilità regolare in base alla relazione ui t uguale limite per n che tende all'infinito, asterisco ui t n sotto le stesse condizioni che assicurano la validità della 11. Per l'integrabilità regolare è sufficiente la continuità dell'integrande e necessaria la limitatezza come uguale ad una funzione limitata. Per un integrale della forma generale 13 e analogamente per 14, le proprietà di continuità in questione consistono in ciò che l'integrale esteso alla frontiera f di d risulta infinitesimo con la misura di d, quindi quando limita a priori, ma comunque, l'area di f. Si può dire allora che la forma a di y di z più b di z di x più c di x di y è regolarmente integrabile. Della teoria esposta sono conseguenze quasi immediate le formule integrali classiche stabilite nel loro campo naturale di validità. Nel campo dei vettori V con P, supponiamo per semplicità, continui le derivate rispetto alle coordinate x, y, z del punto P. Come se in qui f denoti la frontiera di un dominio spaziale D, C il contorno di un dominio superficiale T su F, dominio di classe omega, e indichiamo con N il versore della normale AF, con T quello della tangente a C, con D omega piccolo l'elemento di volume di x di y di z. La formula di Gauss-Green si stabilisce immediatamente con un passaggio a limite attraverso una successione poliedrica di approssimazione per D. Per dimostrare la formula di Stocke, osserviamo innanzitutto che l'integrale a secondo membro, nullo quando esteso alla superficie di un poliedro, si conserva tale per continuità su ogni frontiera, F. Acquisita la formula per una qualunque superficie poliedrica, la si stabilisce mediante passaggio a limite per un dominio sulla superficie sittima di un poliedro pi greco maiuscolo. L'osservazione fatta conduce allora a poligoni superficiali su F e con un nuovo passaggio a limite da siffatti poligoni a T. Si consegue il risultato generale. Per illustrare la nostra definizione di insieme linealmente orientato, consideriamo il dominio D del secondo esempio addotto nel numero 11 e il dominio superficiale T intercettato sulla frontiera F dal dominio somma di cilindri con base interna alla curva C costruito nel primo esempio. T è di classe omega grande su F. Il suo contorno C si compone di infinite curve regolari e della curva di accumulazione ed ha per lunghezza la somma delle lunghezze delle prime. La formula di stock è applicabile a T, nonché al complementare C costruito per punto T di contorno meno C. Se però a D si sostituisce l'altro dominio D' di quale sempre ricordato, T non risulta più di classe omega su F' ma soltanto il suo interno di classe omega. La formula di stock si applica allora all'interno di T e da C per un verso, al dominio complementare C costruito punto T su F' e da meno C per l'altro. Abbiamo limitato per brevità la nostra esposizione ai casi degli insiemi superficialmente e linearmente orientati dello spazio ordinario, ma l'estensione al caso generale degli insiemi J di K, K dimensionalmente orientati in uno spazio ad N dimensioni non presenterebbe più a questo punto che qualche complicazione formale. Insiemi J N elevato a N-1 si definiranno a partire dalle frontiere F elevato alla N-1 di domini N dimensionali. Si considereranno poi i domini N-1 dimensionali sulle F elevato alla N-1, le loro frontiere F elevato alla N-2 si atterranno così di J elevato alla N-2 e continuando in tal modo si giungerà infine alle definizioni di F elevato alla K e J elevato alla K. Il procedimento si fonderà su formule generali di riduzione dei tipi 9 e 10, esprimendo le misure K dimensionali delle N su K proiezioni di J K. Ognuna mediante K integrali delle misure K-1 dimensionali di proiezioni di sezioni per piano. Un insieme K dimensionalmente orientato e in ultima analisi. Un insieme di elementi K dimensionali raccordati ognuno definito da un punto non neutro e dallo spazio lineare a K dimensioni tangente o da quello a N-K dimensioni normale. Insieme neutro a misura K dimensionale nulla su J K. K. E questa è una parte di quello che è il lavoro misura e integrazione sugli insiemi dimensionamento orientato. Una parte fondamentale di tale lavoro che potrebbe essere utilizzata, anzi verrà sicuramente utilizzata, in alcuni settori della cosmologia teorica e della fisica teorica quali la teoria delle stringhe e la cosmologia del tipo inflazione eterna multiverso. Ripeto, quindi modelli matematici basati sulla teoria geometrica della misura che da questi lavori ha incominciato a prender piede e a essere pian piano approfondita da altri eminenti matematici che hanno preso spunto da questi lavori di Renato Caccioppoli i quali già contengono in germe quello che poi sarà l'attuale settore della matematica definita teoria geometrica della misura. Grazie